Leggo i tweet di Speranza, non dobbiamo arretrare, che leggo i giudici della Corte Costituzionale di Stato, ma scusami, ma va bene, diviniamoci insieme per i giudici della Corte Costituzionale di Stato, ma mi vuoi dare i dati sugli obiettivi di coscienza o no? I dati sul testamento biologico, ma è possibile che a 5 anni dall'entrata in vigore della legge non si sa quanti testamenti biologici sono stati fatti. La legge prevede una campagna di informazione? Non è mai stata fatta. Abbiamo calcolato dei dati che una persona su 495 ha fatto il testamento biologico. Nessuno evidentemente gliel'ha proposto, gliel'ha chiesto, si sono posti la domanda, come fermiamo questa domanda qui? Vorrei poter vedere chi si sono posti.